Nei suoi occhi è stampata ancora la paura di quegli attimi di concitazione, di quel coltello brandito dall'arrapinatore che aveva fatto irruzione nella sua rivendita di tabacchi in pieno centro a Benevento. Giuseppe se l'è cavata con cinque punti di sutura al capo, un taglio che si è procurato cadendo durante le fasi concitate della rapina. Poi c'è stato l'intervento di un carabiniere libero dal servizio, stava passeggiando lungo corso Dante con la moglie, quando si è accorto di quello che stava cadendo nel tabacchi ed è subito intervenuto. Ed è per questo che dopo alcuni giorni il commerciante vuole ringraziare lui e l'intera arma dei carabinieri. Il mio dovere è esprimere tutta la mia gratitudine per come è intervenuta questa persona, la tempestività che è intervenuta e la professionalità che ha avuto nel fare questo, dandomi quindi la possibilità di cavarmela in un modo alla meno peggio rispetto a quello che poteva succedere. Io ringrazio in particolare questa persona, questo carabiniere che è intervenuto e ringrazio anche l'arma dei carabinieri perché successivamente si sono messi a disposizione nel gestire il malfatto. Il fatto che è successo, è successo in quel modo così repentino e l'arma di carabinieri una volta dimostrato di essere presente comunque sul territorio col supporto umano nei confronti della persona che ha subito un reato.